In consueta l'apertura di questo carnevale ad Albignasego, affidata straordinariamente alla fanfara di Jay-Z ospitata in zona per il raduno nazionale dei bersaglieri di Sandona di Piave. E si passa dalle musiche militari a quelle decisamente più esotiche del gruppo brasiliano Ipanema Show do Brasil. 23 i carri che hanno dato spettacolo lungo Via Roma per tutta la serata. Il maltempo fortunatamente ha interrotto la Kermess solo nella parte finale. Gremiti di spettatori i marciapiedi per l'ultimo carnevale della Regular Season prima dei carnevali estivi. Anche questa volta a sfilare sono stati soprattutto i carri provenienti dalla provincia patavina ma non sono mancati anche gruppi dal veneziano. Potete trovare il video completo della manifestazione su Zwischenberg Channel Premium o in replica su Zwischenberg Channel Premium 1 giovedì alle 14 e i contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social. Zwischenberg Channel News, Albignasego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.